Prima di campionato Ad Oro Grazie carissimo Ma senti un po' Ma il Martorini mi ha detto questo qua Della mia società Ma l'altro aveva fatto il terzo E qui ha segnato il secondo Allora Due, tre E' da quello tecnico forse? No Scusi ma andate Sto pensando che si può Era il penultimo Il momento Quinto Maurizio Allora Maurizio Vince di qua Martorini E quello di fianco Quinto 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 Quinto